Torna la passione per i cavalli a Verona con una tra le più antiche fiere, sicuramente il più importante salone internazionale dedicato al mondo equestre. Fiera a cavalli dopo l'edizione digitale del 2020, quest'anno torna in presenza con numeri davvero considerevoli. Presenti 3.000 cavalli di 60 razze provenienti da tutto il mondo, 300 aziende espositrici da oltre 10 paesi su 25.000 metri quadrati con buyer in arrivo da 18 nazioni. E poi ancora 35 associazioni di allevatori, oltre 200 eventi tra gare sportive, esibizioni e convegni, 8 padiglioni e aree esterne da visitare, 5 campi di gara a cui si aggiungono 3 ring per le prove. Un evento davvero tanto atteso che porta a Verona l'unica tappa in Italia della Coppa del Mondo Longinfei Jumping World Cup con i migliori cavalieri del mondo che si sfideranno domenica 7 novembre contendendosi un monte premi di oltre 400.000 euro. Nuovo il format che vede la manifestazione spalmarsi su due weekend in modo da offrire la massima sicurezza a tutti i partecipanti, dagli operatori di settore al pubblico più generale. Bella l'atmosfera che si respira.